La Toscana è tornata a tremare, erano infatti le 4.37 di questa notte quando si è registrata in Mugello la scossa più forte di magnitudo 4.5 con epicentro a Scarperia, San Pietro, ad una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato nettamente avvertito anche a Firenze, città, a Pistoia e Prato. La scossa più forte è stata sentita però anche nell'Aretino, soprattutto nel Casentino, come a Poppi ed in Valdarno, ma anche in alcuni piani alti dei palazzi di Arezzo. Non è che si parla di un grosso terremoto, la magnitudo è bassa, decisamente bassa, colpisce perché arriva in una zona in cui le persone hanno perduto la memoria del fatto che si tratta di una zona sismica. Il Mugello è una zona sismica, a tutti gli effetti la Toscana ha una sismicità piuttosto pronunciata dalla Garfagnana al Mugello e anche per la verità nella parte meridionale, dunque nulla di stupefacente dal punto di vista geologico. Si tratta di un evento che ci dobbiamo aspettare. Per questa ragione la paura naturalmente non può essere evitata, ma anche i piccoli danni che ci sono stati possono essere evitati se si presta attenzione quando si costruisce che si sta in una zona di questo tipo. Dunque gli scuotimenti possono avvenire. Naturalmente questo fatto di scendere tutti per strada è un po' problematico perché quando ci sono diverse scosse, quasi in uno sciame, chiamiamolo impropriamente così, c'è il rischio che proprio quei cornicioni, quei comignoli, quelle tecole che cadono facciano più danni e più feriti mentre tu scappi di casa. Dovresti aspettare che tutto è calmo prima di muoverti se la casa è costruita bene come io spero che sia. Poi era stata interrogarci sul motivo per cui un terremoto di questa magnitudo, cioè passo, interrompa addirittura i collegamenti di alta velocità fra Roma e Firenze. È veramente una cosa che ti dice che il paese non è in grado di ragionare sul rischio naturale, proprio non ne vuole sapere che c'è un rischio naturale. È stata infatti una giornata nera anche per i pendolari a retini. Il sisma ha fatto scattare una serie di misure che hanno bloccato per ore il traffico ferroviario in transito nella tratta fiorentina dalle sei in poi. Così i pendolari della stazione di Arezzo si sono accalcati nell'atrio con treni che via via accumulavano ritardi 320 e 180 minuti, alcuni addirittura sono stati cancellati. La situazione infine si è regolarizzata dopo circa tre ore.